Un ragazzino di soli 15 anni che probabilmente non sapeva nuotare oggi pomeriggio attorno alle 17 ha rischiato di annegare nelle acque del torrente Bitto a salvare il giovane originario della Nigeria ma residente a Talamona, un bagnante che notato il minore a naspare tra le acque si è tuffato trascinandolo fino a riva. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale sanitario che ha effettuato il primo soccorso aiutando il quindicenne a despellere l'acqua ingerita, poi l'arrivo dell'elicottero di Como che lo ha elitrasportato all'ospedale di Bergamo dove ora si trova ricoverato per accertamenti. Con i primi caldi molti valtellinesi che cercano un po' di refrigerio nei fiumi e nei torrenti la raccomandazione è quella di essere prudenti ed evitare di correre rischi gettandosi in acqua.